Qui siamo davanti ad un altro De Matteis. Caravaggio scompare un po' nella sua tavolozza e è passato un po' di tempo. Abbiamo il mito di Pan di siringa. Lui è colpito da una freccia d'oro, lei ha una freccia di piombo e quindi lei lo respinge appunto da farsi trasformare in una pianta. Pan deciderà questa pianta a sette canne e creerà il suo flauto di Pan. E qui abbiamo una particolarità sul colorismo appunto di De Matteis che sembra in qualche modo anticipare il fumetto. Appunto ci dà questa idea del movimento stereoscopico che viene raggiunto nel fumetto all'inizio del Novecento attraverso appunto la luce diffusa e il tono pastello che vediamo in questo quadro.